buongiorno e ben ritrovati nel nostro costueto angolo di presentazione dei prodotti io sono leglio di minaya.com borgomanero in provincia di novara oggi volevo presentarvi questo giradischi l'attuale top di gamma a catalogo il dp 450 usb scendiamo più nei particolari di questo tipo di giradischi il giradischi è un trazione a cinghia da un peso abbastanza importante di quasi 6 kg 5,8 kg ha il controllo elettronico della velocità 33 45 78 giri chicca di questo giradischi viene riproposta una tecnologia per quelli che sono diciamo più datati come me appassionati più datati come me braccio as che era una vecchia tecnologia degli anni 80 una chicca di quei tempi che viene riproposto oggi su un giradischi moderno per chi vorrà poi potrà andare a cercare in rete che cos'era il braccio ad esse anti schete in meccanico e grammatura per il braccio rotellino in dotazione abbiamo questa testina che non è marchiata ma penso che sia un audio tecnica at 3600 ormai la consuetudine quasi tutti i giradischi in commercio che in dotazione mettono una testina minimalista e poi naturalmente per chi vorrà potrà mettere una testina di maggior fattura con una prestazione decisamente migliore registrazione su usb abbiamo questa port usb sul frontale e questi due tastini da parte mp3 e vav quindi il giradischi è in grado di registrare direttamente su chiavetto usb o come dice il costruttore anche su un hard disk pigiando una volta il tasto cioè prima prima si seleziona che cosa vogliamo registrare se in mp3 o in sistema vav pigiando una prima volta registra pigiando una seconda volta stop alla registrazione poi naturalmente il giradischi registra praticamente con un livello di registrazione fisso quindi con un livello sonoro diciamo medio poi per chi vorrà modificare tale livello potrà farlo col pc e scaricare uno di quei programmi diciamo liberi free che si trova praticamente liberamente in rete e può modificare il file stesso che riproduce il giradischi questo giradischi qua una cosa che non vi ho detto è che un semi automatico ovvero quando il braccio arriva a fine disco si alza e stoppa la rotazione del disco stesso naturalmente questa automazione può essere escludibile da un tasto riposo riposto dietro all'apparecchio stesso il giradischi può funzionare sia con uscita fono sia un uscita linea quindi se voi non avete un amplificatore compre fono integrato potrete utilizzarlo con uscita linea preamplificata all'interno possiede un preamplificatore il giradischi stesso qui da parte ho messo praticamente il copripolvere del giradischi con questa forma particolare con quel supporto alla base naturalmente può essere spostato esce dalla base si può spostare come si vuole metterlo dove in posizione come si vuole oltre alla funzione praticamente cioè praticamente cosa fa funge sia da da copripolvere del giradischi stesso oppure per appoggiare il vostro 33 giri che in quel momento state ascoltando se vi è piaciuto questo video naturalmente pollice all'insù iscrivetevi al mio canale sostenetemi e date il vostro like grazie da leglio minaya.com borgomanero in provincia di novara grazie